Massimiliano Bussellato potrebbe essere il primo squillo dell'era Luciano Zauri. Il 26enne del Foggia infatti sarebbe pronto a vestirsi presto di biancazzurro come stamattina riporta il quotidiano Il Messaggero. Un'operazione rapida, quella che dovrebbe interessare il centrocampista Veneto. Un bel prospetto quando già nel 2011 passò dalle giovaniglie la prima squadra del Cittadelle che in Serie B ha trovato la consacrazione, anche se le ultime annate in Puglia tra Bari e Foggia non sono state da ricordare. Le difficoltà della squadra rossonera che Sannella hanno messo in vendita ad un solo euro dopo la retrocessione in Serie C agevola parecchio un affare che farebbe felici tutti. Il Foggia si libererebbe di un calciatore che in Serie C evidentemente non vuole rimanere. I pugliesi risparmierebbero un ingaggio elevato e Luciano Zauri avrebbe un giocatore duttile che gioca prevalentemente al centro ma che può spostarsi senza alcun problema sull'out di destra della linea mediana. Un vero e proprio jolly dunque utilizzabile in parecchi angoli del campo. Quest'anno mai a segno, Busellato ha come procuratore Mario Giuffredi legato al Pescara da parecchie operazioni portate a termine nel recente passato. In Puglia ma sponda a Bari invece potrebbe finire Marco Perrotta, richiesto dai biancorossi appena promossi in Lega Pro. Per quanto riguarda il reparto attaccanti, le piste battute dal Delfino sono sempre quelle che portano a Marco Tuminello dell'Atalanta che a Bergamo è destinato a non avere spazio tornando di fatto in prestito di nuovo in Serie B. Con Ciofani sempre più lontano sembra proprio lui il principale indiziato a raccogliere l'eredità in fatto di gol di Leonardo Mancuso anche se il Delfino non ha abbandonato la pista che porta Gianluca Scamacca del Sassuolo che tuttavia per capire se ci saranno richieste da club di Serie A dopo aver terminato amaramente con l'eliminazione in semifinale l'Europeo Under 20 guarda ancora la massima serie. Occhio anche ai giovani dell'Inter, Davide Merola attaccante classe 2000 e Thomas Schirò stessa età ma ruolo leggermente diverso. In uscita nel frattempo Mattia Proietti e Alexis Ferrante, entrambi andranno alla ternana dell'ex direttore sportivo Biancazzurro Luca Leone in Lega Pro. Il primo torna dal prestito a Terramo, il secondo da quello a Fano dove non è riuscito ad evitare la retrocessione tra i dilettanti. A proposito di AD, anche il benevento di Filippo Inzaghi si iscrive alla corsa per Leonardo Mancuso oltre all'Empoli di Cristian Bucchi. Questa sera intanto allo stabilimento Il Belvedere ci sarà la presentazione ufficiale del libro Poveri ma Belli, il pescara di Galeone dalla polvere al sogno di Lucio Biancatelli che ripercorre l'epopea della stagione 86-87 culminata con la promozione in Serie A della formazione biancazzura. Oltre al tecnico ci saranno anche Sliscovic, Pagano, Marchigiani, Berlinghieri, Bosco autore del gol decisivo contro il Parma di Cara, Camplone, Gaudenzi e Ronzani.